8.296.000 euro destinati agli interventi rivolti alle non autosufficienze. Un fondo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 7 maggio 2014. Compito delle Regioni ora, si legge in una nota diffusa dal Ministero il 1 luglio, trasmettere la redazione di un programma attuativo necessario all'erogazione delle quote spettanti. Ecco dunque che la Regione Abruzzo presenta le sue linee guida. Finalmente sono arrivati questi fondi, noi non avevamo dubbi naturalmente sul fatto che arrivassero in Regione Abruzzo, finalmente possiamo disporre di questi fondi. Oggi abbiamo fatto una conferenza stampa, faremo una conferenza stampa insieme a tutte le associazioni, chiederemo agli ambiti di presentare i progetti e poi distribuiremo agli ambiti sociali che poi li daranno a loro volta alle famiglie e ai non autosufficienti. Il decreto richiama le Regioni ad utilizzare una quota non inferiore al 30% per interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima e la restante quota pari al 70% per interventi a favore delle persone non autosufficienti. I fondi saranno per l'assistenza domiciliare integrata, per i centri di urni, per assegni, per voucher, per l'assistenza domiciliare. Sono fondi governativi per cui è il governo che decide anche la percentuale, per il 40% ai gravissimi e per il 60% a tutti quanti gli altri disabili. Infine le precisazioni sulle modalità di liquidazione. Il 50% dell'importo assegnato è erogato dopo verifica positiva del piano locale per la non autosufficienza e il 50% a saldo dell'importo è erogato dopo presentazione del rapporto semestrale sulle attività svolte conformemente a quelle previste dal piano. Il termine di scadenza è il 10 novembre per gli ambiti sociali e cioè gli ambiti sociali entro il 10 novembre dovranno presentare il proprio progetto per la non autosufficienza.